Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati. Sapersi prendere cura. Ecco il tema bellissimo che cogliamo dalla liturgia di domenica, che ci pone davanti subito un contrasto. Quello tra i cattivi pastori d'Israele, che pascono se stessi e disperdono il gregge, e Gesù che invece si prende cura delle persone. Scandiamo la nostra riflessione in tre passaggi. Primo, contempliamo la cura compassionevole di Cristo, che possiamo riassumere in tre verbi, vedere, sentire, agire. Dapprima i discepoli tornano dalla missione di evangelizzazione. Gesù coglie la loro stanchezza e dice loro, venite in disparte, riposatevi un po'. Ma ecco le folle che li seguono, anzi li precedono. Gesù vede la folla. Erano come pecore senza pastore, gente senza una cura, senza guida, senza nessuno che gli annunciasse il senso pieno della parola di Dio, che l'avesse a cuore. E Gesù sentì compassione e si mise ad insegnare molte cose. Agisce dunque in loro favore, se ne prende cura. Ecco, Gesù vede, sente compassione e agisce. Questo sentire compassione è bellissimo. Sia il verbo greco, Splanknizo, che è il termine ebraico che sta dietro, da cui Rechem, indica proprio il movimento delle viscere materne. Proprio un amore materno, viscerale, un sentire dentro il dolore per la sofferenza dell'altro. Ed è proprio questa compassione il motore dell'agire in favore dell'altro. Tutto l'agire di Dio in nostro favore è mosso da questa compassione. Vede la nostra sofferenza, il nostro male, il nostro peccato. Sente dolore per le sue creature e agisce, e si rivela, e si fa uomo, e muore in croce, e continua a farsi piccolo nell'Eucaristia. Ecco qui proprio il dinamismo della cura, il dinamismo dell'amore. È bello sapere che Dio ci ama così, sentire che Dio ti ama così. Vede le tue sofferenze, sa delle tue fatiche, e prova compassione per te, e continua a donarsi per te. In un passo bellissimo del profeta Esaia, il Signore dice, si dimentica forse una madre del proprio figlio, così da non commuoversi per il frutto delle sue viscere? Anche se una madre si dimenticasse del proprio figlio, io di te non mi dimenticherò mai. Ora, miei cari, ed ecco il nostro secondo passaggio. Questa cura di Dio ci chiama a riscoprire una cosa importante, che per vivere, per crescere, abbiamo bisogno di lasciarci curare. Il Vangelo ci ha parlato di pecore e di pastore. La prima cosa importante è quella di ricordare che tutti noi siamo pecorelle, cioè abbiamo bisogno di cura. Per le pecore la cura del pastore non è un optional, è vitale. Così per noi. Anzitutto abbiamo bisogno di lasciarci curare dal Signore. Cosa vuol dire? Vuol dire lasciarci amare da Lui, lasciarci nutrire da Lui nell'Eucaristia, lasciarci perdonare nella confessione, lasciarci parlare al cuore attraverso la Sua parola, da meditare quotidianamente nella preghiera e lasciandoci istruire da Lui attraverso la Mamma Chiesa. Questo ci chiede, miei cari, di uscire dal mito dell'autosufficienza dell'uomo che basta a se stesso. Beati i poveri in spirito perché di essi è il Regno dei Cieli. Beato chi mendica lo spirito, chi si fa povero davanti a Dio, chi si riconosce sempre bisognoso di Lui. A New York c'è la cattedrale dedicata a San Patrizio. Di fronte hanno posto la statua del mito greco di Atlante, quest'uomo che porta da solo sulle spalle il mondo. È un mito caro alla massoneria perché rappresenta la ribellione alla religione, la presunzione di poter affrontare la vita senza Dio. Ma non è così, miei cari. Abbiamo bisogno di Lui e tante volte lo comprendiamo nei momenti difficili. Quando la vita ci mette con le spalle al muro, quando la sofferenza ci attanaglia, quando cadiamo a terra moralmente, emotivamente, allora tante volte è proprio lì che ci lasciamo abbracciare dalla misericordia di Dio, come un bimbo che è caduto, solleva finalmente le braccia e si lascia prendere in braccio dal papà o dalla mamma. Ma lasciarsi curare, miei cari, non tocca solo il nostro rapporto con Dio, ma anche il nostro rapporto con gli altri. Papa Francesco, in una sua udienza, diceva quando è che si passa dall'età infantile all'età adulta? Quando ci si relativizza, quando si imparano a riconoscere i propri limiti, dunque quando si ammette di aver bisogno degli altri. Questo nelle relazioni ci chiede l'umiltà di lasciare che gli altri possano aiutarci, consigliarci, amarci. Noi tutti venendo al mondo siamo come dei boccioli chiusi, che per sbocciare hanno bisogno di ricevere amore, attenzione, cura. Senza cura, senza compassione non si va da nessuna parte, la vita non si sviluppa, una relazione non va avanti, senza misericordia nessun amore regge. Ma anche qui, lasciare che gli altri ci amino, lasciarci aiutare, chiede una buona dose di maturità e di umiltà. San Giovanni Paolo II, parlando della sofferenza, diceva che non c'è solo la carità di chi accudisce il malato, ma c'è anche la carità del malato che lascia che gli altri si prendano cura di lui. Lasciarsi curare può voler dire anche saper chiedere aiuto, farsi poveri ammettendo agli altri i propri bisogni. E pensate nella vita di coppia, ma quante liti, quante discussioni, perché ci si accusa, ci si attacca, si giudica l'agire dell'altro, quando sarebbe molto più semplice chiedere aiuto, manifestare il proprio bisogno. Ad esempio, avrei bisogno che tu mi aiutassi in questa cosa? O di trascorrere un po' più di tempo con te? Oppure mi ha ferito, mi ha deluso questo atteggiamento? Cioè dirsi i propri bisogni? Manifestare all'altro ciò che si ha a cuore? Attenti, questo non vuol dire che dall'indomani sicuramente la persona lo farà o pretendere che dall'oggi all'indomani cambi, ma permetterà all'altro di comprendere e di poterci venire incontro. Ma eccoci al terzo passaggio importante, imparare a prendersi cura degli altri. Il Vangelo, miei cari, ci ha messo davanti alla compassione di Cristo, alla sua cura premurosa, compassionevole. Abbiamo visto Gesù che vede la sofferenza della folla, che sente compassione e dunque si dona, agisce in favore della folla. Ecco, miei cari, dobbiamo ricordare che non siamo soltanto pecorelle, ma siamo chiamati anche a essere pastori, cioè a prenderci cura degli altri. Uno sposo, anzitutto verso la sua sposa e viceversa. Questo vorrà dire dedicare tempo, comunicare affetto, prendersi cura della relazione, dei bisogni. Per un genitore, i figli, curarli, trascorrere con loro il tempo, non parcheggiarli davanti a tablet o abbandonarli a se stessi, ma esserci, curarne l'educazione. Per un sacerdote vorrà dire non ridursi a orario di ufficio o soltanto alla messa del giorno, fondamentale, chiaro, ma esserci, spendersi per le confessioni, la visita ai malati, per incontri catechetici, per formare comunità e via dicendo, mettiamogli rapporti con gli altri familiari, gli amici e sul posto di lavoro. Ma anche un malato è chiamato ad essere pastore per gli altri, a offrire la sua sofferenza anche nel nascondimento, a beneficio degli altri, perché vivendola unita a Cristo possa essere sorgente di vita per tante altre persone. Ma tutto questo, miei cari, che è altissimo, che è bellissimo, che è la vita che tutti dovremmo desiderare, ci chiede una cosa fondamentale. Ci chiede di saperci perdere di vista, decentrarci. Un bravo autore spirituale racconta che, parlando con un suo amico psichiatra, gli pose una domanda. Come fai ad insegnare ad amare? Lo psichiatra rispose, quando hai mal di denti, a che cosa pensi? Solitamente noi pensiamo al nostro dolore, cioè ci ripieghiamo su noi stessi. Così è la maggior parte della gente. Per carità, tutti affrontiamo i nostri impegni, le nostre fatiche, le nostre sofferenze, ma tante persone soffrono proprio per questo, perché sono rinchiuse unicamente nel proprio mondo, centrate su se stesse, sui propri problemi o semplicemente sulla propria autorealizzazione e sui propri bisogni. Un sacerdote psicologo diceva che mai potremo trovare la felicità se cercheremo soltanto la nostra autorealizzazione e la nostra pienezza umana, ma potremo trovarla se cercheremo la realizzazione e la pienezza delle persone che abbiamo accanto. E a tal proposito mi viene in mente una favola semplice ma bellissima. Vi era una principessa, bella, intelligente, aveva tutto, ma era sempre sola e sempre triste. Un giorno al Palazzo Reale venne abbandonato un bambino e il consigliere del re suggerì al sovrano la soluzione, affidare questo neonato alle cure della principessa. Il re chiamò sua figlia e affidò a lei questo bambino. Questo bambino risvegliò nel cuore della principessa un profondo senso materno e iniziò a prendersene alacremente cura giorno e notte. Questo bambino crebbe, la sua salute migliorò e insieme a lui anche quella della principessa, perché? Perché aveva imparato a prendersi cura di qualcuno. Questo in fondo, miei cari, ci fa chiedere, e io, di chi mi sto prendendo cura? Sto cercando soltanto la mia autorealizzazione o mi sto donando per la vita e la felicità di chi ho accanto? Ecco, miei cari, imparare a prendersi cura degli altri significa imparare ad amare. E per imparare davvero ad amare abbiamo bisogno di un cuore connesso alla fonte che è Cristo, di un cuore illuminato dalla parola di Cristo e, insieme a tutto questo, di imparare a perderci di vista. Relativizzarci, decentrarci. Allora avverrà una rivoluzione copernicana. Non vivendo più centrati su noi stessi, ma sul tu di Dio e degli altri, ci riscopriremo felici e semineremo vita con la nostra vita. Cari fratelli e sorelle, che il Signore ci insegni davvero a saperci prendere cura degli altri, imparando a vedere, a sentire e ad agire con amore e per amore. E allora sì che vivremo una vita piena che vale davvero la pena essere vissuta. Che il Buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.